La vita oggi è molto impegnativa. Ci sono troppe persone e tutte vogliono quello che hanno gli altri. Questo è Shaikh. Assumerà le sue mansioni il mese prossimo, quando lei ci lascerà. È un piacere conoscerla, signore. Sì, è tornato il portapranzo. Completamente ripulito. Ripulito? Sì. Com'era il pranzo oggi? Buono, come sempre. Il cavolfiore era davvero buono. Sia, il mio portapranzo è andato a qualcun altro. Grazie per aver spazzolato il pranzo di ieri. Per qualche ora ho pensato che la strada del cuore fosse davvero attraverso lo stomaco. Mio marito è tornato a casa ieri sera tardi. Non ha detto una parola. Oggi, signore, dimostra dieci anni di meno. Mio marito ha un'altra donna. Cara Ila, non pensi questo. Le cose non sono mai brutte come sembrano. Credo sia ora di incontrarci. Mia madre diceva sempre, a volte il treno sbagliato ti porta alla stazione giusta. Perché già non sono mai brutta come sembrano. Mi la cosa d сильно può